Si va verso una soluzione per la riapertura del casello autostradale di Roseto. Nelle ultime ore la società autostrade ha comunicato al sindaco Sabatino di Girolamo di aver raggiunto l'accordo con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le modalità di intervento per la sistemazione del viadotto sulla statale 150 a ridosso dello stesso casello. Questo accordo adesso va riversato in un progetto che il MIT vidimerà la prossima settimana da quanto mi dice appunto la direzione del settimo tronco dopodiché si presenteranno subito l'istanza di dissequestro alla procura di Avellino. Dovrebbero esserci tutti i presupposti per un dissequestro però il condizionale poi è d'obbligo perché tutto dipende dalla magistratura. Le forze di opposizione, su iniziativa del capogruppo di Avanti per Roseto, Egno Pavone hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per affrontare la delicata questione. Io non ho nessuna preclusione verso questo consiglio comunale abbiamo già visto una unità di opposizione di maggioranza in occasione dell'incontro con gli operatori del casello e penso che questa unità possa solo far bene al raggiungimento dell'obiettivo che è quello di sbloccare questo casello. Intanto per gli imprenditori della zona la chiusura del casello autostradale continua a rappresentare un problema grosso con fatturati più che dimezzati e se la situazione non dovesse sbloccarsi a stretto giro entro la fine del mese al massimo c'è chi sarà costretto a licenziare i propri dipendenti. È stata una mazzata per gli operatori del casello autostradale veramente incredibile, di grande gravità li comprendo abbiamo lavorato quotidianamente per questo sblocco c'è la difficoltà, ripeto, di una politica che non gestisce completamente la questione ma che deve raccordarsi con l'autorità giudiziaria questo è stato l'elemento che ha portato a delle lentezze Grazie a tutti! Grazie a tutti.